Ciao internet, volevo fare un video di sfottò, sfottò contro una parte dell'amministrazione romana 5 stelle, ma credo che sia più utile in realtà osservare come il problema forse non sia legato semplicemente ad una gaffe, ma ad una metodologia, una metodologia che non funziona, che non sta funzionando. Come forse avete avuto modo di vedere, il 27 gennaio si è celebrata la giornata della memoria, giornata della memoria che ricorda le vittime della Shoah, vittime della Shoah che in vari luoghi di tortura e di morte hanno perso la vita. Quello che vedete alle mie spalle non è un muro con qualche graffito, è una fotografia abbastanza famosa che ritrae l'interno delle camere a gas e quello che vedete sono i segni delle unghie sui muri. Cosa è successo? È successo che nel giorno della memoria il comune di Roma fa una gran fanfara per annunciare una mossa di marketing, perché solo di marketing possiamo parlare. L'ATAC, l'azienda di trasporti municipale, regalerà l'abbonamento annuale ai sopravvissuti dello sterminio. I sopravvissuti lo sterminio che ha oltre 70 anni, dallo sterminio stesso hanno palesemente più di 70 anni. 70 anni che in teoria sono già esenti dal pagamento dell'abbonamento se stanno sotto a un reddito di 15.000 credo euro anno. Il problema non è la fascia di reddito o meno, il problema è che da una lieve indagine, proprio una indagine abbastanza stupida giornalistica che fa Repubblica, sembra che siano già tutti e dieci i sopravvissuti romani beneficiari dell'esenzione per età. I problemi sono di tre ordini diversi. Il primo è un problema di comunicazione. Il fatto di utilizzare la Shoah come metodo comunicativo per gonfiarsi tronfiamente il petto per una sponsorizzazione che, mal contata, saranno 1.500 euro all'anno, la trovo un po' una situazione inopportuna. La seconda è il fatto che questa iniziativa non è nemmeno del Comune di Roma in sé, ma è grazie a una operazione di co-branding e co-marketing, quindi qualcuno sponsorizza questa parte. Quindi il Comune di Roma ci fa anche la figura del pezzente che non vuole investire 1.500 euro, 2.000 euro all'anno per una cosa del genere, ma deve anche chiedere i soldi per una cosa di questo tipo, probabilmente per non incappare nelle ire degli pseudo fascisti che potevano dire a questo punto, ah ecco spreca i soldi per questa cosa, ma non importa. La terza è molto più importante. Il Comune di Roma dovrebbe sapere quanti e quali sono i cittadini a cui si rivolge un'iniziativa, anche solo per dimensionare quello che è lo sforzo necessario per l'esborso economico per realizzarla, ma ancora di più perché probabilmente ha un registro anagrafico e ancora di più perché dovrebbe sapere i dati che sono parte del patrimonio di informazione del Comune stesso. E a quanto pare il Comune di Roma non sa nemmeno leggere i dati della sua anagrafe. E se mi permettete, la cosa più che farmi venire voglia di prenderli per il culo mi rende davvero, davvero triste. E come sempre, grazie mille per avermi ascoltato e ci vediamo al prossimo video. E shalom.